Un sulmone imbottito di giovani affronterà domani al Pallozzi la seconda in classifica matelica per l'ultima giornata di andata della Serie D. Scenderanno in campo i ragazzi della Juniors ma ci sarà il valido apporto di Alfredo Meo, l'unico a non svincolarsi, e Daniele Baldassarre. Come rinforzi sono arrivati i centrocampisti Francesco Bernardo, classe 94, per lui si tratta di un ritorno dopo la stagione scorsa, Morris Belfiore, anche gli 94, proveniente dal Pratola, Antonio Susi, classe 95, proveniente dalla Torrese, e Matteo Lorenzetti, classe 93, già alla Juniors del Sulmona nello scorso campionato. E' stato tesserato anche il portiere Eddie Big & Comer, svincolatosi dal Pacentro. Per il resto sono tutti elementi che già facevano parte della Juniors, nativi del 95, 96 e 97. Ad allenarsi oggi nella seduta di rifinitura al Pallozzi c'era anche il difensore Carlo Cavasini, che dovrebbe essere prossimo al tesseramento. Presente inoltre l'ex del Civitella Roveto, Castellisangro Emilianico, Francesco Campanella, che però non ancora firma. L'intento è quello di avvicinare più elementi locali possibili, cercando di fargli capire che sarà un'opportunità esibirsi in Serie D. Decidere in questo momento particolare di mettersi in gioco per onorare la gloriosa maglia del Sulmona sarà un gesto da eroi. A guidare la squadra è Mario Pulsone, che insieme allo storico capitano Alfredo Meo ha preso in mano una situazione critica, con l'obiettivo di risollevarsi. Dopo la sfida di domani ci sarà la sosta che permetterà di organizzare meglio la squadra. C'è l'impegno a reperire risorse economiche per rinforzare l'organico al fine di conquistare i punti utili per la salvezza. Domani sarà improponibile fare risultato contro il Matelica, non importa però come finirà, in quanto è essenziale dare un segnale tangibile che dovrà rappresentare la rinascita partendo dal basso per arrivare ad un progetto stabile senza strafare che permetta a Sulmona di conservare negli anni la Serie D. Questo è lo spirito che dovrà prevalere perché la squadra è patrimonio della città intera. Ognuno dovrà sentirsi partecipe per difendere la causa biancorossa, cioè un qualcosa che appartiene a tutti. La gara con il Matelica dovrà essere affrontata con questi auspici. Le difficoltà sul campo ovviamente sono plausibili. I marchigiani sfrutteranno la trasferta abruzzese per consolidare la seconda posizione in classifica. La formazione del tecnico Fabio Carducci è reduce da cinque risultati utili consecutivi e dispone in organico elementi di qualità come gli attaccanti Cacciatore, con Gigni e Acchetta e il centrocampista Moretti. Per il Matelica potrà essere anche una passeggiata, ma da parte dei biancorossi prevarrà l'orgoglio di essere sul Monesi. Ecco l'organico attualmente a disposizione. Portieri Alfredo Meo, Eddie Bigencomer e Matteo Scelli, classe 96. Difensori, Ennio Di Ciccio, 95. Antonio Di Genova, 96. Francesco Piscopo, 96. Matteo Sulli, 96. Centrocampisti, Daniele Baldassarre, Francesco Bernardo, classe 94. Morris Belfiore, 94. Matteo Lorenzetti, 93. Danilo Del Conte, 96. Danilo Pallozzi, 95. Antonio Susi, 95. Attaccanti Fabrizio Di Prata, 96. Diego Graziani, 95. Fabio Merolli, 97. Davide Tofani, 95. E Ludovico D'Amato, 96. Calcio d'inizio al Pallozzi alle 14.30. Arbitrerà Aldo Marchese di Cosenza.